Nebel Cady, Pordenone è veramente indigesta, l'anno scorso 3-1, quest'anno 4-2, insomma una trasferta e proprio al Teramo non va giù. Sì, penso che Pordenone sia indigesta a tante squadre in questo momento, perché comunque io, come diceva la tua collega, sono rimasto veramente ben impressionato da quella squadra, anche se comunque noi, secondo me, non abbiamo approcciato bene a questa gara, eravamo un po' titubanti e abbiamo sbagliato tantissimo. Però devo dire che giocavamo, sì, è un campo che purtroppo si fa fatica, perché loro sono abituati, è un campo stretto, quindi molto diverso da come siamo abituati noi. Non è un alibi, però abbiamo affrontato, secondo me, una squadra attrezzata e mentalmente forse un gradino sopra di noi in questo momento. Anche perché domenica a Teramo arriva una squadra che ha appena fatto 5 gol, con Lupoli che ha fatto una tripletta, arriva Sanzovini, insomma il reparto avanzato della Fermana fa paura in questo momento. Sì, sì, è una squadra che in questo momento ha trovato una quadratura importante, il mister ci ha già accennato due o tre cose, quindi ci sarà del bel lavoro per la difesa. Sono convinto che non sono stati comunque errori di reparto, ci sono stati più ingenuità individuali, quindi li mando stando un po' più attenti, più concentrati, si può sicuramente fare meglio. E me lo auguro perché comunque da difensore quale sono non mi piace questo. Fermana e Feralpi, il Bonolis può fare la differenza in che modo? Spero nel modo come Ravenna, perché con Ravenna è stato bellissimo, mi è piaciuto tanto il pubblico di domenica scorsa, e quindi spero che ci sia la stessa gente o anche qualcosa in più che ci dia una mano perché con Ravenna sinceramente sono rimasto ben impressionato.